ma quanto è bello grados allora più o meno qui ci siamo girati potuto alcune cose sono ancora bloccate il momento di andare avanti con la storia andiamo qui ci facciamo tutto il giretto di qua di qua di qua arriviamo qua anche se qui mi pare di aver capito che ci si può arrivare sia con la barca ma forse anche a piedi perché qui c'è questo ponte qui andiamo a vedere proverai prima a piedi un po di soldini vai e torniamo sul ponte che le è successo non saprei ragazzi era stata abbandonata molto prima che gli ormangander sommergesse la città chissà com'era vivere qui tra qualcosa di mezzo scopriremo la prossima volta ah ma non si sale qua pensavo che c'era il ponte invece non c'è un cazzo devo prendere scale lo prendere scale niente ascensore va a fare un giro qua intorno che meccanismo vediamo se c'è qualcosa da queste parti ancora non lo sblocco peccato niente non ci sarà niente di interessante qui intorno pensavo che è grosso pensavo che facevo prima si smaltiamo un po' dai qua? mai vista una serratura così? ricorda qualcosa che ho visto disegnare a Tyr gli piaceva combinare vari simboli in rune create da lui questa credo significhi pace unità pietà e tanto altro ho visto quello che faceva ma come entriamo? abbiamo altri problemi senza la chiave? lascia stare ok un paio di cosette quindi qui intorno ci sono dai siamo arrivati saliamo da quest'altra parte adesso da sempre quello lì niente giro pure di qua ma si dai ormai stiamo cazzeggiando ma qua non c'è un cazzo però eccoci qui allora devo andare di là giusto? non dà bene si 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 ah cazzo non sarebbe ah porca troia è chiuso devo fare il giro allora oh no non dà bene si 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 ok spuga qualcuno? non rompere il culo a qualcuno? che cazzo è qua? si capisce sarà un vaso o un pezzo di qualcosa questo guarda qua continuiamo questo questo è il cazzo è se sveglia sto cojone testa di cazzo cojone poi mi ammazzerà sicuramente che strisce vanno qua? quindi qualcosa dovrebbe fare strozo niente qua freccia meno male dai mori così ecco sento il fabbro e rice potenziamo un po' adesso oh cazzo che cazzo fai si si era di qua e poi non avevo proseguito per farmi il giretto ciao bello matura busto cazza di spesa non male ma mi abbassa tanto la forza eh ma passa tanto tanto la forza si e per il giovanotto ma tanti soldi che c'ho bruciare la metà per questo e tre di acciaio no no aspetta niente niente ed è utile questo potrei pure fare proprio un più due del cazzo così ma si dai potenzione mi ha fatto al massimo scappare che trofeo che è sta musica oh sti cazzo incantesimo ancora no ho capito come funziona trovo quando ok vediamo sta pietra della resurrezione intanto che è un altro senza c'ho 41 per adesso sto a posto vedi non mi serve niente da vendere ok possiamo proseguire andiamo cosa da ste parti una corta per scendere più velocemente mi viene il dubbio però che a sto punto di qua in realtà non vado avanti con la storia forse buongiorno ah c'è il tesoro ok bene quindi mi ero preoccupato per un cazzo qua lo potevo fare subito vaffanculo non ho capito che cazzo c'è sta a fa' il nostro amico lì fabbro ah no però aspetta qua siamo ancora qui ho detto una cazzata eh 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 quasi andava avanti voglia ok qui ritorno giù e qui proseguiamo andiamo 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 dove andiamo consiglio delle valchirie porca troia le valchirie mi sa che mi fanno tanto male tarca troia sto andando incontro alla morte non qua riesco a prendere non scoppia questo farebbe di no paura paura troppo tranquillo cazzo come lo faccio ah no cazzo ho visto qualcosa aspetta c'è qualcosa lì dietro secondo me ma da qua non ho via da l'altra parte forse sì però guardando da quest'altra parte eccolo Tana arrivo arrivo aspetta papino che arriva ecco c'è buono e qua c'è un forziere piccolino energia ce l'ho oio oioioioioi Kratos, te sei un figo ma qua mi sa che ci rompo un culo porca troia brutta sensazione non c'è niente di valore non succede niente per il momento ho scoperto il posto proviamo ad andare al centro vediamo se buca fuori qualcuno che ci rompe il culo non succede niente niente, quindi c'è andato la barca lì, almeno questo l'abbiamo capito consiglio dei parchieri qua ne sa tanto di endgame ok, a meno che non mi pieno alle spalle anzi ci possiamo andare ah qua non c'è da dove si è venuto cazzo, nient'altro ok, quindi andiamo a prendere la barchetta e farci tutto il giretto qui ci sarebbe anche subito adesso prendiamo la nostra cordicella e scendiamo e scendiamo al volo dici qualcosa tu? no? te l'acchiri e niente? dai sono andato bravo rimani così tu ok dove si passava per andare di qua era sempre andiamo andiamo grazie a tutti grazie a tutti